Siamo in un brutto pasticcio. Hanno ucciso un uomo. La polizia ci ha accusati. E dobbiamo riabilitare i nostri nomi. Allora, parliamo. È stato ucciso per qualcosa che aveva visto. Questa è un'organizzazione che vuole governare il mondo. Governare il mondo? Voi, brava gente, ci dovete aiutare. È l'unica speranza che abbiamo di uscire da questa situazione. Beh, speriamo che vada bene. Le cose si fanno complicate. Ti va ad iniziare? Bevete a me. Non su di me. E ce n'è molta altra in arrivo. Andiamo ad Amsterdam. Ti hanno dato uno schiaffo, Bert. Hai un segno rosso stampato qui in faccia. Questo è uno schiaffo. Questo è un cugno. Oh, no, no, no. Dal 27 ottobre...